Ciao, questa è la terza volta che provo a registrare questo video, veramente non ne posso più. Scusate la voce, sono un pochino raffreddata, anzi un bel po' raffreddata e parlo piano perché il bambino dorme. E siccome, come vi dicevo, sono già tre giorni che cerco di registrare questo video, non vorrei che si svegliasse perché dovrei stopparlo e quindi se ne riparlerebbe chissà fra quanto tempo. Comunque, oggi vi vorrei mostrare un tutorial che ho visto sulla copertina di un giornale ed è questo qui. Questo trucco è stato realizzato su una ragazza, un'attrice inglese emergente, io sinceramente non la conoscevo prima di leggere questo articolo. Lei è Felicity Jones, come vi dicevo, è un'attrice inglese emergente, secondo me è bellissima. E praticamente io ho comprato il giornale perché sono rimasta veramente colpita dal make-up che indossava lei. A parte che secondo me è veramente bellissima. Comunque vi dicevo, questo trucco mi ha colpito perché è particolare, nel senso che comunque è un colore che non si vede spessissimo. Non si vedono spesso dei make-up su questi toni giocati, sui toni del bordeaux, insomma del borgogno, comunque questo vinaccia scuro. E che vi dicevo, mi ha affascinato perché è molto bello, è particolare, ma allo stesso tempo non è comunque elaborato perché, vedete, non ha dei grossi giochi a livello di trucco. Di trucco, cioè da quello che ho potuto comunque vedere io, ha un colore molto chiaro sulla palpebra, luminoso, e un colore scuro sul resto dell'occhio. Poi secondo me lei sta benissimo perché comunque ora magari dalla videocamera non si vede, ha una carnagione molto chiara e gli occhi verdi. Quindi comunque questo colore piuttosto scuro le risalta particolarmente il colore degli occhi. Anche le labbra, come vedete, sono messe comunque in primo piano, sono abbastanza accentuate. Sono questo rosso, che a me sembra un rosso ciliegia, bello, molto bello, con questo gloss sopra che le rende piuttosto lucide. Io ho cercato, con i prodotti che avevo in casa, di replicare questo trucco. Naturalmente il risultato non è lo stesso, né per quel che riguarda la modella, né per quel che riguarda il make-up. Io però, guardatevi, assicuro che mi sono impegnata veramente tanto. Per quel che riguarda la base, io ho utilizzato una crema colorata, cioè ho mischiato una gocciolina di fondotinta, alla mia solita crema da viso abituale, questo perché comunque sta venendo caldo. Buongiorno, buongiorno, scendi, aspetta. Questo perché sta venendo caldo e quindi, soprattutto durante il giorno, in cui le temperature sono abbastanza elevate, tenere il fondotinta vero e proprio sul viso mi dava un pochino fastidio. Quindi ora sto optando per questa formulazione un pochino più leggera, che comunque mi consente di dare un aspetto comunque omogeneo al viso, di uniformare il viso, però allo stesso tempo di non appesantirlo troppo. Sulle guance ho messo un pochino di blush, sfumato però soprattutto verso gli zigomi, verso le tempi, perché comunque anche lei nella foto ha questo blush, sfumato però soprattutto verso gli zigomi, piuttosto che sulle guance. Sulle labbra ho messo un rossetto di Kiko, di quelli che hanno durata 10 ore, ma in realtà 10 ore non dura, anche se la durata devo dire non è male, con sopra un pochino di gloss. E comunque niente, vi metterò poi dopo nell'info box tutti i prodotti che ho utilizzato, sia per gli occhi, che per la base viso, che per quel che riguarda le labbra. Niente, il trucco è questo, mi avvicino un pochino, vi faccio una zoomatina, non guardate le sopracciglia, perché fanno pena. Il trucco è questo. Questo qui. Io spero che vi piace, mi raccomando non siate troppo cattivelle nei commenti, non sto scherzando. Fatemi sapere se vi piace o anche se non vi piace, io vi mando un bacio e se vi va seguite il tutorial. Ciao! Ok, allora, come primo step vado a stendere un primer su tutta la palpebra. Io utilizzerò lo Urban Decay Primer Potion, questa è la mini taglia, l'ho trovata insieme alla Naked quando ho comprato la palettina lo scorso autunno. Stendo il primer su tutta la palpebra, un pochino sopra e leggermente sotto alla rima inferiore. A questo punto vado a prendere con questo pennellino qui che fa parte del set di Samantha Chapman, lo starter set. Questo è l'Ascent Brush, il pennellino per lavori di precisione. Dalla Naked vado a prendere il secondo colore della palette che è questo qui, il Sin, che è un colore molto bello, un rosa antico che ora dalla videocamera sembrerà uno champagne, un marrone piuttosto. E lo vado a mettere qui per recreare il mio punto luce, per illuminare solamente questa zona qui. In questo modo vado a fare una specie di mezzaluna. A questo punto, sempre dalla Naked, vado a prendere il colore più chiaro che è il Virgin. Anche questo è un colore molto bello, molto chiaro, è molto luminoso però non ha assolutamente nessun tipo di glitter. È molto perlescente, mi piace tantissimo perché lo utilizzo spesso quando magari non ho tanto tempo e voglio comunque dare al viso uno sguardo sveglio, uno sguardo aperto. E il Virgin lo vado a mettere con questo pennellino qui, che è il classico pennellino da ombretto, il 239 di MAC. Lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile. Questa luce non vedo una mazza proprio. Lo metto su tutta la palpebra mobile senza però salire verso l'alto, solo sulla palpebra perché comunque voglio che il colore sulla palpebra mobile sia luminoso ma che la sfumatura sopra sia opaca perché il make up del giornale è fatto in questo modo. Occhio luminoso sulla palpebra mobile ma sulla palpebra fissa la sfumatura è comunque su un colore scuro e opaco. Bene, ci siamo. A questo punto vado a prendere un pezzettino di scotch, lo passo sulla mano per evitare di scorticarmi dopo e lo vado a mettere nell'angolo dell'occhio per aiutarmi dopo sia con la sfumatura che con la riga di eyeliner. Con un pennellino penna, questo io uso è di Kiko il 207, è quello che è uscito con i pigmenti quest'inverno. Vado a prendere dalla palette Scurissimi di Neve Makeup questo rosso qui che è Red Carpet. Lo vado a prendere di punta e un pochino alla volta perché sono colori molto molto pigmentati quindi preferisco aggiungerne un pochino per volta. Quindi comincio ad applicare il colore all'angolo esterno e lo porto un pochino su per cominciare a delineare il punto dove voglio iniziare a fare la mia sfumatura. Quindi lo porto un po' su e poi verso l'alto. Il make up del giornale fa una sfumatura piuttosto alta, praticamente quasi l'attaccatura del sopracciglio. A me però non piaceva particolarmente quindi comunque mi fermerò ad una sfumatura un pochino più bassa. Quindi dall'esterno verso l'interno porto il mio colore e inizio allo stesso tempo un pochino a sfumarlo. Questo pennello mi piace molto come pennello penna in sé perché comunque riesce a insinuarsi molto bene nella mia pega dell'occhio. Però la cosa che non mi piace è che punge da morire. C'ha veramente delle setole, io non so di che cacchio sono fatte, ispide, sembra tipo quelle dei pennelli che si usano per dipingere le stanze. Pennelli quelli da muratore, da pittore, da in bianchino. Comunque ecco qui inizia a creare la mia sfumatura. Vedete io avevo appena preso una puntina di red carpet. Questi colori sono molto, vi dicevo, estremamente pigmentati. Quindi bisogna usarli un pochino per volta per evitare un effetto troppo esagerato, anche perché poi questo è anche un colore scuro, quindi ha maggior ragione. E porto il colore anche un pochino verso il centro della palpebra mobile per non creare un contrasto troppo esagerato con il chiaro che ho applicato su tutta la palpebra. E questo comunque colore scuro e molto acceso che applico sul resto dell'occhio. Per rintensificare un pochino il colore vado a prendere questo viola qui, dov'è? Questo qui, che si chiama shock, che è un bellissimo viola scuro con dei riflessi sul blu, molto molto carino. Quindi anche di questo ne vado a prendere una punta e lo vado ad aggiungere a red carpet per intensificare un po' il colore. Per scurirlo appena un pochino. Anche qui comincio un pochino a sfumare, anche se il make-up, questo make-up non è molto molto sfumato, anzi le linee sono piuttosto nette, non c'è una sfumatura evidente. Il trucco è piuttosto delineato, quindi anche io mi limiterò a sfumare un pochino, ma non esageratamente. Aggiungo un altro po' di shock. E a questo punto, come vi dicevo, vado a sfumare appena 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 un pochino. Io utilizzo questo pennello di Royal Beauty, con cui mi trovo particolarmente bene, sfumo un pochino, non eccessivamente. Dall'esterno verso l'interno. E a questo punto vado ad applicare l'eyeliner. Io utilizzerò il gel eyeliner di Essence, quello classico nero, lo 01 Midnight in Paris, con questo pennellino qui, sempre proveniente dallo starter set di Real Techniques, che, se vi ricordate bene, nella review non avevo particolarmente elogiato, ma in questo caso mi sta tornando abbastanza utile, perché la riga di eyeliner di questo make-up è abbastanza grossa, abbastanza marcata. Quindi, siccome questo pennellino qui fa delle linee, come vi dicevo, piuttosto spesse, riesco abbastanza facilmente a creare questa riga di eyeliner in poco tempo. Comunque vi risparmio questa tortura e quindi ci vediamo a riga di eyeliner fatta. Ecco qui, ho fatto la riga di eyeliner e adesso andrò a mettere nella rima inferiore una matita nera. Io utilizzo quella di Deborah, l'Extra Eye Pencil, che è una matita waterproof con cui mi trovo molto bene. Io non amo molto il trucco waterproof, ma questa mi piace perché io comunque ho una lacrimazione abbondante e le matite purtroppo dopo poco mi colano tutte. Questa invece devo dire che mi sta dando buoni risultati. La vado a sfumare con sempre il 207 di Kiko, leggermente. E la intensifico, scusate, con un ombretto nero per aumentare la durata. Questo è il Noir della O Naturel di Slick. Quindi ne prendo una punta e lo vado ad applicare sopra. Mascara, io utilizzo The Giant di Catrice. È uscito da poco, una delle nuove collezioni, cioè una delle nuove collezioni, un prodotto comunque entrato in commercio da poco. Mascara solamente sulle ciglia superiori, non vado nelle ciglia inferiori. E per finire vado a mettere un illuminante, opaco però, sull'arcata sopraccigliare. Utilizzo, vado a prendere, il 207 sempre di MAC, sempre dalla palle... 239, scusate, di MAC, sempre dalla O Naturel. Vado a prendere questo colore qui, chiaro, che è un color burro, che si chiama Honeycomb. Che c'è? Lo vado a mettere qui. Ed ecco qua. Il trucco è finito. Il risultato è questo. E questo è il trucco nel complesso. Comunque, come vi dicevo, anche le labbra sono parecchio marcate. Io ho utilizzato questa tinta di Kiko con sopra un gloss. Il risultato... Insomma, io ho cercato di farle il più fedele possibile, ma mi rendo conto che... ce ne vuole. Comunque, basta, niente, nient'altro. Io spero che vi sia piaciuto. Vi ripeto, comunque vi metterò l'elenco di tutti i prodotti nell'info box, di modo che se volete potete dargli un'occhiata. Vi ringrazio nell'eventualità che abbiate visto il video. Lasciatemi un commento se vi va. Il video in cui vi mostro le novità di primavera. Ho messo una foto su Facebook, per chi non l'abbia vista. Speravo di riuscire a farlo entro la fine di questa settimana. In realtà non so se ci riesco. Quindi, eventualmente, se ne parlerà la prossima settimana. Comunque, abbiate pazienza che pian piano riesco a fare tutto. Io vi mando un grosso bacio. Vi auguro buona giornata. Adesso mi veste e vado al mercato, perché c'è un sole bellissimo. E alla prossima. Ciao, ciao! Ciao!